Padre Santo mostriamo di amico per distruggere tutte le religioni sotto il nome soltanto si deve è una religione tutte le religioni di questo mondo sono opera dell'uomo nessuna religione può salvare le anime degli uomini nessuna è giusta e nessuna religione è stata fondata da Dio ma ma uomini ribelli e malvagi si sono presi la propria condanna e hanno fondato religione e denominazione che Dio non ha mai ordinato Dio è Spirito è tutti coloro che credono nel Vangelo del Signore Gesù Cristo e si ravedono e fanno il Battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo ricevono lo Spirito Santo per avere comunione con il Signore e adorare Dio in spirito e verità e camminando secondo la volontà di Dio ecco a me perché questo è il video originale segure che sui che che ha un segure sono